Il Trefiori si riscatta dall'eliminazione epatita. In semifinale vince la finale per il terzo e quarto posto in campionato. Sono sufficienti tre minuti alla formazione giallo-blu per trovare il gol del vantaggio e il rimpallo in aree favorevole ad Apesteghia. Il numero 11 infila la rete con un chirurgico Mancino a giro che batte De Lai. La risposta della Libertas arriva al quindicesimo. Botta dalla distanza di Michael Battistini sul primo palo la conclusione sfiora il legno e termina di poco a lato. Ci prova anche Aissawi qualche minuto più tardi. Botta di collo destro, pronta respinta di Simoncini che devia in calcio d'angolo. La Libertas lascia troppo spazio agli avversari che raddoppiano al ventiduesimo. Massaro ha tutto lo spazio per servire compagno che supera il portiere e segna il gol del 2-0. La ripresa è di marca giallo-blu. Passano cinque minuti e compagno da dentro l'area serve Massaro. Il tiro d'interno destro c'entra il palo e rimbalza sui piedi di De Lai. Piove sul bagnato per la compagine di Borgo Maggiore. Su una ripartenza avversaria, Aissawi commette fallo da ultimo uomo su compagno e viene espulso. Con l'uomo in più si aprono spazi per il Trefiori. Compagno per Bologna che a tu per tu non sbaglia e segna il Trisse. Ultimo gol con la maglia numero 13. Il giocatore lascerà dopo questa partita. C'è spazio anche per il gol della bandiera della Libertas. Se il neo entrato per rotta serve Golinucci che deve solo girare in rete. L'ultima istantanea della sfida è il cross di Vassallo per il colpo di testa di De Angelis. Super De Lai che non fa entrare il palone in rete. Tribrice fischio cala al sipario sulla stagione di Libertas e Trefiori. Per quest'ultimo si prevede un'altra estate di notte europee.